Siamo con il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. Ormai Vieste è il punto di riferimento per quanto concerne le iniziative legate alla legalità. Città-modello da questo punto di vista significa che per questi anni, in questi anni, si è lavorato tanto su questo fronte? Sì, è stato uno degli obiettivi principali e iniziali. È stato un lungo lavoro perché chiaramente partivamo in una situazione molto complicata sia dal punto di vista di ordine mafioso ma anche dal punto di vista della legalità intesa anche nella quotidianità, quindi anche nelle piccole e grandi legalità che si commettevano sul territorio. Oggi Vieste rappresenta da questo punto di vista un'isola felice, dal punto di vista mafioso stiamo leggendo in questi giorni notizie assolutamente positive. C'è stato un ulteriore pentimento, quindi oggi i pentiti salgono a tre. Siamo forse l'unica mafia in cui fino adesso abbiamo dei pentiti. Quindi ci aspettiamo anche nel futuro delle operazioni ancora più importanti, oltre a quelle che già sono state fatte. Quindi ci fa ben sperare per il nostro futuro e per il futuro della nostra città. Però chiaramente serve un cambio di passo anche da parte del resto della provincia e mi riferisco ad altre città importanti come Manfredonia, come Sansevero, come Cerignola e come la stessa Foggia. È chiaro che Vieste non può rimanere isolata, si devono unire anche gli altri comuni, comuni anche più importanti di Vieste, dove le situazioni criminali forse sono anche peggiori delle nostre. Ecco, un modello che piace a tutti ma che difficilmente viene spostato altrove, nel resto della Capitanata. Perché secondo lei? Ma io penso che principalmente ci sia un problema legato all'approccio dei cittadini. Io non vedo negli altri comuni questa voglia di reazione che ebbe Vieste già più di dieci anni fa. Questo l'ho osservato ad esempio su Foggia, oltre alle manifestazioni che ci sono quando arriva Donciotti, che poi sostanzialmente sono formati da ragazzi. Non vedo la parte pulsante della città, quindi gli imprenditori, i commercianti. Vedo ancora molta diffidenza, adesso non so se per paura o perché non si ha voglia di affrontare il problema. È un territorio dove c'è la mafia, ma non è un territorio mafioso. Quindi è chiaro che la gente oggi deve reagire. Come hanno reagito a Vieste non è qualcosa di utopico, è qualcosa di assolutamente realizzabile. Quindi c'è Vieste che l'ha fatto, ci ha messo un po' di tempo, forse 7-8 anni, però è riuscita a liberare questo territorio. Adesso aspetta agli altri cittadini, imprenditori, commercianti, forze dell'ordine a tutti, del resto della provincia. Diamo un riscatto alla nostra terra, anche perché è veramente brutto vedere sempre Foggia agli ultimi posti di tutte le classifiche. Possiamo fare molto di più, abbiamo delle potenzialità enormi e la mafia ci blocca. Quindi è qualcosa che va assolutamente rimosso e la si può rimuovere solo con l'aiuto di tutti.